Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul canale, io sono Stefano. Oggi mi trovo a Pisa, in Toscana, sono venuto a fare un giro in Piazza dei Miracoli. È la prima volta che vengo in questa città e ci tenevo a portare sul mio canale le immagini di questo luogo. Qui andiamo alla scoperta di Piazza dei Miracoli, della Torre Pendente e buona visione. I turisti sono stati gentilissimi, mi hanno scattato una foto dall'altra parte della torre. Sembra quasi un fotomontaggio, come se io cercassi di raddrizzare la torre di Pisa, veramente. Uno spettacolo, poi pubblicherò la foto sui social, quindi sulla pagina Facebook e sul canale Telegram se volete dare un'occhiata. Proviamo a fare un giro magari verso il Lungarno. Ieri sera ho chiesto informazioni al signore che lavora alla reception dell'hotel. Tra l'altro gentilissimi, abbiamo preso la stanza a due passi dalla torre. Ci siamo trovati benissimo in questo hotel, quindi penso che se tornerò a Pisa prenderò ancora una stanza a loro, perché veramente mi sono trovato bene, molto molto gentili. Siamo percorrendo la via Santa Maria, ho acceso il GPS, quindi c'è il Garmin che sta tracciando il mio itinerario per evitare di perderci, perché al ritorno dobbiamo tornare alla torre. Qui ci troviamo sull'Arno. Siamo tornati in Piazza dei Miracoli, adesso torniamo in hotel e poi andiamo a pranzare. Se il video vi è piaciuto mi lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Un salutone dalla città di Pisa e ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Ciao!